Dai, un altro numero. 40 le persone che ho invitato. 4 quelli che sono venuti. Ma come 4? C'è pure il nano, no? A proposito, gli altri 6... Impegni. 10 e l'8 è anche online. Scoprilo su giocodellotto.it. 10 e l'8, questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.